Fisico che arriva ora e allora buon divertimento a tutti voi amici gialloblu per Ellas Verona Udinese, sedicesimi di finale della primavera Team Vision Cup 2021-2022 E con lui anche Benguet Patanè, dal limite tour invece Parte Florio, con il destro il pallone che va nello specchio della porta, viene respinto da Sergio Barlocco Ancora gialloblu in avanti, Florio viene rubato, il pallone dai piedi del numero 7 E quindi il pallone per Bragantini, lo scambio con Piero Bon, c'è tanta qualità da quella parte Piero Bon mette il pallone dentro, arriva Florio, fuori di niente, fuori di niente Gialloblu ancora vicino al coro del vantaggio, vedete Bragantini che corre subito sul pallone a recuperare Ci riesce invece Tura, tantissima intensità in questo avvio, ottimo l'approccio dei gialloblu Il pallone poi largo, Minocci, si fanno vedere davanti, ragazzi di Corrent, il pallone messo in mezzo Sul primo palo c'è una deviazione e c'è l'autorette da parte del numero 5 dell'Udinese Ossia Mazet e gialloblu sono in vantaggio Gol dell'Ellas Verona Due su di lui, finisce poi col perdere il pallone l'Udinese che prova a ripartire Iob, Pafundi, Bragantini a sporcare la territoria del pallone Pafundi però è ancora in controllo della sfera L'appoggio all'indietro dove arriva la conclusione Con l'ottimo intervento di Chivila in calcio d'angolo Redondi E Bengueva in verticale direttamente da Piero Bone che cerca di andare via Il pallone rimane il numero 10 che calcia e finisce sul fondo Con deviazione, calcio d'angolo gialloblu, pericolosissimi Stiamo a vedere se con questo assetto torna a farsi vedere in avanti l'Ellas Verona Florio, il servizio è proprio per Minnoci In fianco lui c'è Bragantini, l'appoggio di prima Bragantini ora ce l'ha sul mancino Lo mette poi in mezzo per Piero Bone Per Piero Bone l'abbiamo detto Vediamo se funziona Questo cambio d'assetto funziona come? Con una pennellata meravigliosa Da parte di Branchantini per Piero Bone Che di testa, fa 2-0 Poi Yeboah salta due uomini Lo fa però per andare ad appoggiare dai Bengue Passano i secondi Col direttore di gara che ha il fischietto in bocca E infatti fischia due volte Gialloblu e Udinese che vanno quindi a riposarsi Vanno all'intervallo Si chiude qui il primo tempo con il vantaggio Dell'Ellas per 2-0 In primi 45-46 minuti A dire il vero decisivo Decisiva L'autorete da parte di Maset A cui è seguito il gol Di Piero Bone Con il fischio che arriva ora E si parte con la seconda frazione Buon divertimento a tutti voi amici Gialloblu per Ellas Verona Udinese Con Ebengue che intanto è andato a recuperare Yeboah prova ad andare via Viene contrastato da due uomini Rimane sul pallone Poi Ebengue Piero Bone Fa partire il destro del limite Di niente Non riesce ad arrivare sul pallone Bosili Occasione per Isoloblu Questa Si prosegue Con il vantaggio Squarzoni Va da Patanè In area ci sono Bosili Florio Eboah Patanè Palone colato al piede Doppio passo Patanè la mette in mezzo Con un pallone che taglia Tutta l'area di rigore Il pallone poi in mezzo Piero Bone Riesce ad arrivare sulla sfera E a spegnere l'azione Quindi bascia Il pallone allargato Adesso si Giazziri Con il numero 3 Che va in mezzo Il colpo di testa E il grandissimo Intervento da parte di Chievila Colistra In mezzo a due uomini Fa proseguire il pallone Come giocano I gialloblu Nello stretto Con Squarzoni Che poi va in verticale Da Bosili Un'azione pazzesca Dell'Ellas Bosili in area Pallone sul fondo Di nulla Di nulla Un'azione perfetta Da manuale De gialloblu Col pallone che rimane lì Il colpo di tacco In area c'è Pinzi Che va a concludere E il pallone che entra in porta Arrivello gole di Pinzi Per il 2-1 dell'Udinese In questo finale di gara Si riapre il match Il pallone battuto in mezzo Viene respinto Da parte di Colistra C'è il fischietto in bocca E c'è anche Il triplice fischio Del direttore di gara Che manda tutti negli spogliatori L'Ellas vince 2-1 contro l'Udinese E vola Dritto Agli ottavi di finale Dove affrontarà la spalla Dove affrontare la spalla